No! Ah, un secondo che finisco di bere il caffè? Ehm... Ogni sera faccio lo stream deck check, esatto, però sì Qualcuno di voi che fa lo streamer, tanto è pieno di persone che fanno le streamer Ehm... Hai idea se c'è un modo di autodisattivare una cosa con lo stream deck quando l'avvi? Perché io lo avvio ma giustamente poi mi devo ricordare di toglierlo Se no ogni volta che torno lì si riattiva Non c'è modo Non abbiamo qualche streamer emergente? Non è previsto Ho sempre detto che una merda lo stream deck io Fin da prima che me lo regalassero Streamer vero che dice la verità Streamer vero che dice la verità Non è che perché mi regalano una cosa io divento la troia di una multinazionale, ok? A meno che la cosa non sia a 4-5-0 in quel caso, vabbè Allora eravamo arrivati a un bossone mi pare ieri Ma non mi ricordo la strada per arrivare a bossone Non ci sono se nemmo Ehm... Di qua non credo Ciao, Wariz Forse di qua John? Nooo! Tu mi hai appena iniziato a usare la testa e troppo che ti insegnano il mouse! Volevi! Shit! Minchia come te li pigli tutti però questi! Potresti essere un asquillo di lusso io? Ma scusami, non attivo i tasti Rhino! Eh sì, devi ripigiarlo però Ale! Tu metti caso che io sto facendo una cosa, lo attivo, poi mi scordo spesso e volentieri e quando torno sulla scena il giorno dopo magari riparto in automatico! No, no, no! E eh 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 il gatto prima non c'era sì che c'era, ce l'ho nella borsa mica se alla fine le compare la luna sulla fronte a sto gatto io avevo capito tutto no, basta pigiare due volte lo stesso a sto punto ma dove salta fuori? non lo so, è un meme? allora, credo che aspettate mi date la conferma che è nato da questa cosa il meme dell'ayaya perché io dico ayaya perché c'è sto meme cioè ormai le cose giapponesate per me è ayaya però credo sì, credo no, aspetta eh, credo che sia sta scena qui che gli chiede tipo i nomi non riesce a rispondere cioè non riesce a dire il nome del personaggio credo che arrivi da questo credo credo ma effettivamente lei si chiama ayaya perché dice ayaya poi l'altra dice ayaya e lei dice no, è sbagliato ayaya cioè perché perché lei gli dice che si chiama ayaya l'altra risponde ayaya e lei dice no ayaya c'è per me lo pronunciano nello stesso modo ah, dice ayaya dice ayaya sì, dice ayaya si, si, c'è la versione remix, regà roba, roba intensified però è questa ayaya 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 c'è noi quando ero giovane io ridevamo con le telefonate della lavatrice a magnotta e facevano ridere voi adesso vi guardate le pupazzette delle bambine che fanno ayaya siete dei siete dei pervertiti schifosi ah, aia aia, aia, ah, ah ah, dark non bene hai visto l'anime, no no, è che giustamente un giorno, regà ah, giustamente tutti su Twitch hanno iniziato a dire ayaya la gente in chat mi faceva ayaya la prima volta fai eh, eh la seconda volta fai ah, ayaya la terza volta dici ma che cazzo è questa ayaya porca puttana e lo vai a cercare no, Roger è un sound like fighissimo come and join with me allora, questo avevamo oh, io ve l'ho fatto quasi first try questo aia ah, no, è vero che dovevo saltare ok, ok oh, bitch oh, parato stai buono stai tu, 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 tu ah, ok vedi, in fase 1 gli infuocca le mani e lui charge in fase 2 invece tira le bombe e lei eh, il problema è che non ho mana oh, shit quindi dovrò menarlo a melee per recuperare il nostro ah buono fanculo tiber aiaia doppio pugno uno due tu, 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 tu adesso arrivano le bombe no aiaia aiaia in human reaction porca troia porca eh, va bene, dai è fattibile ripeto, l'altro era più hard ho sbagliato tanto ho preso tanti, tanti italy per colpa tu, quando sparo a melee dico piu piu è giusto devi dire piu piu devi dire piu piu dipende dall'arma che hai se c'hai tipo quelle quelle a propulsione non so se ci sono che sparano di continuo di fare c'è ogni arma c'è la sua c'è il suo audio sì ma qui non ci sono casse da rompere per oddio bravo piuma bravo piuma ok l'ho cambiato io per sicurezza visto che c'è il titolo hard non me ne ero accorto grazie no nico e ti abbassi il danno così ti abbassi il danno se fai così vabbè io te ti schifo e vaffanculo shit no 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 parli puttana non ci voglio parlare con te perché fai schifo via ahiaia eh vabbè ma ho perso mezza vita buttana eeeh non mi serve tutta la vita se non mi faccio colpire adesso lo abuso pesantemente in fase 1 look at this mi spapola hai capito hai capito hai capito look at this i'm dodging like a boss questa no questa no ahhhh wow 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 oh wow wow ah oh wow wow Che cazzo? Ma ogni volta impara mostre nuove? Ok, credo che triggeri la fase 2 ora Ok Vedi, a volte lei fa queste e a volte invece ti mette il marchio sotto Beh, però è semplice perché il marchio arriva tanto prima Porca Eh, tanto prima ma l'ho preso comunque nel culo perché SHIT I'M ALIVE, NOT DEAD NOT DEAD No, la stiamo, ho finito, sono uno stronzo E minchia è bastardo perché sono desincate le mosse Cioè per niente finisce la combo lui e ti fa la combo lei E quindi che sia un continuo sprint a doge, sprint a doge Non riesci mai a recuperare la stama Ah, fatemi fare un test, ma se io adesso tipo faccio così Prova ad usare il pompa, no, troppo close range Ok, mi sono rimaste le cure, ok Almeno ho cinque item, raga Mi tengo due pozze di mana e tre cure Eh sì, poi pimpiamo un pelo la stama anche No Eh, se magari però evitassi da... Vabbè Se evitassi di perdere mezza vita prima ancora di iniziare il boss Sarebbe veramente una smart idea Direi che questo try è andato Dai Ma quella buttana di tua sorella Dai che mi ha pure usato la cure e non me l'ha usata Perché quando ti hittano se la mangia Va bene, ti farò imperfect Perfetto Un momento di provare Oh baby E te Ok 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 Sta andando bene Sta andando bene Dai mi manca uno sputo di mana Ok Ok Chiaro Johnny, chiaro hai capito? Fottuto gli oghi Ok Ahia Ahia Ah Dai carica sta spell Oh baby Oh baby L'arcana L'arcana Va bene così Sei immune al fuoco? Sei immune al fuoco? Sei immune al fuoco? Ah forse è vero quando mi... Non lo so se quando mi... Mi pimpo la... È vero dovrei provare raga No secondo me no Quanto faccio col ghiaccio? 16-15 Faccio un pelo di più Poco poco però Ah no 37 Cazzo Eh però questa usa anche più mana Proviamo con la bomba Eh minchia Devo hitarlo bene 91 No secondo me conviene... Forse lo sparo singolo di questa è worth Shit Shit non ho saltato Nooo Eh vaffanculo Oh merda Dammi il mana Non proprio bello questo try No No col fuoco raga Cioè non ci provo nemmeno Non ci provo nemmeno col fuoco Perché ho posto di fuoco dai No no Secondo me ghiaccio è la cosa migliore Mi ghiaccio è la cosa migliore E lo so che è uno shot Vabbè proviamo Guarda L'ho doggiato cadendo Froggers Bella Tomino Ehm Chi ha capito Quanto ho fatto Ehm Questo è finito il mana Aspetta Fai provare la bomba 180 No i ghiacciolini raga No ho sbagliato Dai mi c'è tirato una cura Fanculo Tu 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 No Oh baby E questo, e questo, marrano! Oh baby! Allora l'huppercut divino del vaffanculo un po' più in là. Ok, ancora fase 1. Ah, adesso non più, credo. Stama al massimo, devo tenere. Porca puttana, non riesco mai a doggiarla quella. No! Ehh! The floor is lava! Porca troia! Oh baby! Niente! Bella Pabio con i 19! Welcome back! C'eravamo quasi però eh! Era quasi andato a sto giro. Ehh! Ehh! Non so se posso parriarlo, però... Mmm! L'avego grigia a parriare quel colpo lì. È proprio hard anche da doggiare. Come si chiama? Ciao Benzola! Ehh! Si chiama Little Witch Nobeta il gioco. Uscito un paio di giorni fa. No, no, il salto non ti dà né frame di vulnerabilità né nulla. Voi dite che saltando la doggio... Può essere eh! Però saltare minchia mi fa fuori infinita stama. Se guardate un doppio salto quanta stama mi costa. Beh no, il cazzo costa meno di un roll. Certo che se non perdessi mezza vita, cazzo. Le Xbox sono fatte bene. Sì sì sì, per quello che dico, magari saltando ci sta che lo doggio. Nooo! Uuuh! Bitch! Manna-manna! cazzo doggione doppio no ok again vedi perché adesso fa solo ste ste bombe di fuoco in fase 2 con le bombe di fuoco lì lasciano pure la scia fuck you ah devo recuperare in mana come dalla fase 2 cazzo ma devo andarci full mana in fase 2 porca troia se sei stronzo bubu di merda niente userò questo try per provare no vedi no è enorme l'esplosione con il ghiacciolo al 2 non sto riuscendo a duppare l'esplosione non capisco non è che la puoi parriare minchia rega il parri è difficile sui colpi che vedi che ti arrivano dritti per dritti su quello che arriva dal nulla a me no salto e rotolo è inutile a questo punto rotolo e basta rollo e basta perché hai prendi vulnerabilità e rollo non lo so rimpe secondo me si rimane a level 1 sai che cazzo dai minchia per ma stunnato non lo so I'm a witch, little witch, I understand, ah minchia si, ho capito si, ok, no era il frullino, take this, mother tracker, hop, se io fossi in voi scommetterei sul fatto che non ce la farò ma, what the hell, ma scusami, ha già fatto una mossa dalla fase 2 ed era ancora in fase 1? Il tempo sta cambiando, Oh baby I don't know I don't know Anche non riesco a trovare il momento per, ah no, niente Rollo troppo presto, devo aspettare di più, devo aspettare di più a rollare quel cazzo di esplosione Che cosa mi hai tirato fuori, Britney? In mezzo mare ancora di più Ok, aspetta, facciamo un try con tutte le pozze In rita... in... in ritardo In... in realtà, lancia, sto rolando sempre più in ritardo Sono rolando sempre più in ritardo e... E... niente Però è sempre troppo presto Vero, canaz, it's the only way What? Eh, eh, mi sei buggato il PG, raga What the hell? Eh, no, non corre più Eh, proviamo così Sono indignato, le nonno si bruciano Eh, non correva più il PG, raga, camminava Sarai ingressato di colpo, dance game Anzi, danza, roba! Corri, piccola nobetta, corri Brava 3, 2, 1, dodge Shit, mi ha doggiato lei Baldraca Eh, unexpected dodge Magic Elemental su start Cosa serve? Eh, sono le... le cose che ho, vedi È un riassunto delle... delle spell che ho Basta, raga Lo uccido Mi sono annoiato di questo boss Mi sono annoiato di questo boss Ah, c'è dentro sul sedere No, scherzavo Bravo, Bubu Eh, che corrollo ho anche rotto i barili per recuperare mana Tutto calcolato Fin da quando sono entrato nella room Hai capito? Ogni mio passo è stato pensato per quel dodge Fottuto Baloo You can't do shit Against Nobetta Family Aia, aia, aia Porca traia Corso bastardo Stava andando bene, raga Stava andando fottutamente bene Stava andando fottutamente bene Stavo picchiando come un tamburo Ce l'ho, raga Ho capito la strada Ho capito una cosa Non devo farmi colpire dal fuoco So che voi non c'eravate arrivati Sì, non vi spiego perché Ma Devo evitare il fuoco Dai Dai Super aggressive 10 euro Entro tre trai di Rimpe Qualcun altro Come mi ha preso Qualcun altro Signorine Raccolgo le scommesse Mentre che lo faccio Tranquilli Riesco a leggere la chat It's fine I'm a full time streamer I can do my job Altri 10 euro da Nikon Go Chi altro? Signorine Venghino signori Che qui c'è vino buono Le pagine del libro E meno di del suono 20 se lo fai in questo Canaz Mancano 10 Ne arriviamo a 50 Anche oggi un bel giorno Avete smesso di Di scommettere Sto per venire colpito No Oh baby Ai 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 Guarda un po' che culo Che l'ho doggiato Due volte di fila 21 se lo rifare E' il gioco preferito No Ah troia Ah Ah Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, ma che buono il pollo. Sì, sì. Sì, che combo. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Basta. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.